MULTIPLOSKEROSIS 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 è un'autoimmunità in cui i sintomi principali sono fatiga e fortissime. I pazienti del MS avrebbero sfruttare a correre 100 metri, come ciò che ho fatto. MS affetta le persone di tutti gli anni, anche le persone più giovani. Per questo motivo, ho sviluppato un metodo di lesione automata che potrebbe aiutare a migliorare la diagnosi del MS come oggi, non c'è una cura per MS e questa malattia è diagnozata based on lesioni visibili nella immaginazione magnetica come queste. Segmentare queste piccole lesioni, è estremamente challenging e time-consuming anche per i doktori tradizionali che devono guardare 100 di queste immagini considerando i diversi plani. Il mio metodo è basato su learning machine machine e è potente proporzionare un'accurata lesion segmentazione considerando contrasti di 3D MRI. La mia speranza è che questo possa aiutare i clinici a migliorare la diagnosi e migliorare i tratamenti in modo che i pazienti possono tornare a rinforzare e, più importante, rimaneremo normale come possibile. . . . . . . . .